Ok, ci siamo, partenza, ora c'è il tedesco che manda i messaggi, comunque partenza dalla ditta alle ore 11.30. Eccomi al valico di dogana, ho già preso il bollino, rientriamo. Comincio a avere un po' sonno, arrivato in hotel, buonanotte, ok, sistemato tutto, pronto a ripartire, una bella giornata, il televisore è marchiato Telefunken, dovrebbe portare bene. Arrivato dal primo fornitore, buongiorno eh, ripartito. Ecco qua, ho fatto anche il secondo carico, cominciamo ad essere un po' pieni? Eh? Siamo un po' carichi? E vai! E adesso vediamo che faccia, vediamo. Siamo un po' pieni. Se vuoi dire ciao a Alessio... Ciao Alessio! E guarda! Guarda questo! Il trasformer Ho più Non uno, due! Oh, guarda! Ho un secondo! Aiuto, non so cosa tirare fuori adesso Sì König! Nuo! Transformer 1, Transformer 2, Transformer 3 Ho trovato uno spacciatore Vabbè, ci vediamo dopo Ahahahah Penso che ce ne siano abbastanza Noi! 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 Finalmente sono riuscito a ripartire La macchina è piena Anno non mi mollava più Persona meravigliosa Ciao! Ok Ripartiamo Un giorno! Noi! Finalmente si torna a parlare Ma è il giorno E' un 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 giorno ok, finalmente si torna a parlare italiano e adesso torniamo a casa ok, ci siamo, rientriamo a casa e le partezine ci devo andare casa adesso vado a recuperare i miei bambini poi smontiamo la macchina